Per noi è una stagione importante, non ci stiamo nascondendo, vogliamo stupire, vincere questo scudetto e ci accomuna la passione per Napoli, l'azzurro e quindi vogliamo portare a Napoli questo titolo per i napoletani e per poter continuare questo percorso virtuoso di un club che comincia da un progetto di quartiere fuori grotta fino ad arrivare ai vertici nazionali e speriamo internazionali. Dopo un primo anno straordinario con la conquista della semifinale scudetto alla prima esperienza in Serie A, ecco la nuova stagione del Napoli Futsal che continuerà a giocare tutte le partite interne al centro sportivo Cercola ogni venerdì alle 20.30. Siamo una squadra forte, il venerdì debiamo mostrarlo sul campo soprattutto e noi dobbiamo pensare partita a partita ovviamente in quello obiettivo massimo di portare il scudetto a Napoli che sarebbe una meravigliosa finale. L'anno scorso è stato fantastico quando il pubblico al Palacercola ha riempito il palazzetto e ci ha trascinato la vittoria contro l'Avellino e speriamo di poter sentire il calore della nostra gente già dalla partita di venerdì. Si comincia il 23 settembre contro la neopromossa Pistoia. La campagna abbonamenti è ancora aperta al costo di 50 euro per tutto l'anno e Under 12 gratis. La copertura televisiva sarà assicurata da FutsalTV.it gratuitamente mentre Sky Sport trasmetterà la gara più importante della settimana. Per noi napoletani deve essere un orgoglio ed è davvero la dimostrazione di come con tanta passione, con tanto impegno da parte non solo dei ragazzi che giocano ma anche dell'impresa di Perugino che la sostiene davvero si possono raggiungere vette importanti e per noi napoletani sappiamo tanto e sappiamo bene quanto è importante il riscatto e la possibilità di distinguerci e di primeggiare. Quindi davvero tutto il comune è vicino a questa squadra e speriamo davvero di avere un grande risultato anche da questo Napoli Calcio a 5 e quindi forza Napoli.